Ciao e benvenuta in questo video! Io sono Sara e sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Come detto al titolo, oggi andremo a vedere quali sono i soprabiti più belli da indossare con il vestito maxi. Mi rendo sempre conto infatti che questo capo può mettere in difficoltà, non si sa mai come abbinarlo, quindi se un paio di mesi fa avevamo parlato di quali calzature scegliere per valorizzarlo al massimo, oggi andremo a vedere insieme i soprabiti. Quindi parleremo di diverse pesantezze e i soprabiti, quindi diciamo che ci sono un po' per tutte le stagioni, ho voluto inserirli tutti in un unico video, quindi sia cappotti più mini ma anche giacche più leggere, come possono essere i bomber, la giacca di jeans, il chiodo in pelle, eccetera. Adesso andiamo più nel dettaglio. Direi di iniziare subito con la prima lunghezza, che secondo me è anche forse credo la più utilizzata, ovvero la lunghezza maxi e in particolare, secondo me, il cappotto lungo. Ecco il capo infatti che va a coprire per intero il nostro vestito, andandolo quindi un po' a nascondere, ma non per forza, nel senso che prima di tutto dobbiamo dire che il cappotto lungo è probabilmente il soprabito più scenoso, quello che fa più figura e che secondo me risulta essere anche più elegante. Se lo porti chiuso si vedrà molto bene la linea del cappotto, appunto il vestito passerà un po' in secondo piano, però comunque sarai elegantissima. Se il cappotto è bello, perfetto. Ovviamente dipende anche dal tipo di cappotto, non pensarlo unicamente per occasioni più formali, perché il cappotto può essere anche estremamente casual, insomma, come vedi qua può essere portato in maniera molto, ma molto easy, mi viene da dire, facile, semplice, senza grandi aspettative. Quindi assolutamente dipende un po' dal cappotto, dal suo modello, eccetera, e dipende anche ovviamente da come lo abbini, quindi quali saranno poi le calzature, che tipo di vestito, che modello di vestito e tutto il resto. Il secondo modo per indossare un maxi cappotto su un abito lungo è quello di portarlo aperto o appoggiato sulle spalle, quindi molto indicato per le mezze stagioni se hai un cappottino più leggero oppure anche d'inverno. L'altro giorno in realtà stavo facendo una passeggiata e ho visto una signora molto bella, veramente molto elegante, con un look bellissimo, molto semplice, aveva un vestito lungo, tinta unita, con una cintura in vita, un cappotto lasciato aperto lungo di dritto, modello dritto, e poi un paio di stivali bassi, quindi nessun tacco, look molto casual, con cui volendo avrebbe potuto probabilmente fare chilometri, ma comunque che faceva la sua figura, si notava tra tutte le altre. Quindi assolutamente un look bellissimo per tutti i giorni e molto indicato. Se lasci il cappotto aperto, ovviamente si vedrà meglio il vestito e quelli che sono i suoi dettagli. Dipende ovviamente un po' dalla temperatura, secondo me sia aperto che chiuso è comunque molto molto bello. Come abbinamenti mi piace molto sia tono su tono, quindi scegliere magari di andare a creare un look monocromatico, ma anche a contrasto, sicuramente più azzardato, là ti diverti un po' di più con lo styling, però puoi creare dei look veramente, ma veramente belli. Se il cappotto dovesse essere un pochino più corto rispetto al vestito, non ti preoccupare. Questo secondo me è un dubbio di tante persone, non si sa mai se sia brutto il fatto che esca una fascia di vestito sotto. Secondo me non è brutto, l'unica cosa è che devi stare molto attenta che questo non vada a tagliarti la figura, soprattutto se sei petite preferirei un cappotto lungo che vada a coprire tutto. Se invece hai la figura slanciata sicuramente puoi usare di più. Se sei petite o comunque se vedi che la tua figura non viene slanciata, ricordati il segreto del monocromo. Quindi magari se hai un cappotto nero, scegli un vestito nero da indossare sotto, in modo tale che anche se esce una parte di vestito sotto è nera e insomma con il cappotto non crea un distacco o un contrasto. E la stessa cosa con la calzatura. Il secondo soprabito che ti ho inserito è il trench, quindi andiamo più verso le mezze stagioni. Secondo me il trench è anche questo, uno di quei soprabiti che la maggior parte delle donne possiede, spesso indossa però in maniera molto più casual. Invece anche lui può stare davvero molto bene con un vestito. Mi piace il contrasto, quindi un capo così militare indossato con magari un vestito più romantico, femminile o semplicemente più elegante. Anche è bello il contrasto di tessuti. Inoltre i trench ormai ce li abbiamo davvero di tantissimi tipi, di tantissimi modelli, di tantissimi materiali. Quindi mi vengono per esempio in mente i trench in pelle, in vinile, in organza, trench in saten o i classici trench in cotone o quelli impermeabili. Insomma ne abbiamo davvero tantissimi, un po' per tutti i gusti, un po' per chi vuole restare classico, un po' per chi vuole uscire dalle righe, chi si vuole sbizzarrire, divertire e differenziarsi. Quindi anche in base a quello puoi creare i tuoi abbinamenti con i vestiti. Come vedi qua può essere indossata in tanti modi, anche questo sia aperto che chiuso. Chiuso si vede proprio il modello, quindi magari il doppio petto, la cintura, tutti i suoi dettagli che sono molto particolari e danno proprio molta struttura poi a tutto l'outfit. Il terzo modello è il cappotto di una lunghezza media. Allora, questo come dicevamo prima è probabilmente quello che mette sempre più in crisi, è quella via di mezzo, la classica via di mezzo, non è né carne né pesce, direbbe mia mamma. Allora, in realtà può essere molto bello anche lui. Anche qua abbiamo tantissimi esempi di look anche molto eleganti con questo modello di cappotto. Ovviamente l'errore può essere dietro l'angolo, quindi se hai una figura slanciata non ti preoccupare, se sei alta, se ti stanno bene queste lunghezze, assolutamente non te ne devi fare un problema, perché anzi può essere molto bello, può dare quell'elemento visivo, un po' di interruzione nella figura interessante. Sta bene sia a contrasto anche con una fantasia sotto, sia a tono su tono. Con il tono su tono vai sempre più sul sicuro, se hai paura appunto di spezzare troppo la figura. Se sei petit, questa lunghezza forse te la sconsiglio, nel senso che è molto più pericolosa, devi stare molto più attenta con tutte le proporzioni, quindi è importante che il cappotto cada nel punto giusto, è importante che l'abito cada nel punto corretto, quindi insomma è tutto molto più complicato. Piuttosto appunto scegli un modello o lungo o corto, o se possiedi questo, evita di indossarlo con i maxi dress. Detto ciò, secondo me può essere anche questo, adatto sia a situazioni più casual, sicuramente molto più pratico rispetto a un trench o a un cappotto lungo, che sono più impegnativi come lunghezza, magari se devi fare ponti, scale, se devi scendere in metropolitana, salire in treno, eccetera, il cappotto lungo è sempre più scomodo. Questa lunghezza qua invece è perfetta, perché comunque tiene anche più caldo rispetto a una lunghezza crop, ed è sicuramente più comoda, non hai paura di sporcarlo e tutto il resto. Può stare bene, cioè già abbiamo il vestito lungo, in più un altro strato lungo, diciamo che a volte potrebbe mettere un po' in difficoltà. Quindi se ovviamente cerchi la praticità, questa lunghezza può essere assolutamente la scelta giusta. Passiamo poi alla lunghezza che forse preferisco quando si tratta di maxi dress, almeno su di me è quella che mi piace di più, ovvero la lunghezza mini, quindi i cappottini, i giubbottini, giacche, crop. Non per forza crop, anche una giacca che arrivi all'altezza della vita o poco sotto, secondo me slancia moltissimo la figura, molto bella su un abito lungo, mi piace l'effetto che fa, mi piacciono sia quelle giacche un pochino più piene, bombate, come può essere per esempio un bomber, quindi qualcosa che riempa di più la figura nella parte superiore, e sia qualcosa invece di più liscio, che cada meglio, che sia più sagomato. Mi piacciono entrambe. Ovviamente, stavo pensando dentro di me, dipende tutto dalla tua figura, poi la figura del tuo corpo, quindi la tua fisicità. Devi valutare tu cosa ti sta meglio e cosa invece è meglio evitare perché non ti valorizzerebbe, quindi questo poi sta a te. Ti consiglio di andarti a guardare tutti i video, che abbiamo sempre analizzato quasi tutte le figure, abbiamo sempre parlato di tutto. Quindi, a seconda di quello che ti piace di più e che ti valorizza di più, poi scegli. Comunque, giacche corte ne abbiamo tante, dal modello appunto alla giacca di jeans, il chiodo in pelle, che sono molto indicate per le mezze stagioni, al bomber, al classico più o meno corto, che però dopo ne parliamo meglio, il cappottino, anche una giacca corta, invernale, pesante, con una buona composizione, può essere sempre una buonissima idea per andare a spezzare un po' la monotonia dei cappotti lunghi o delle lunghezze medie. E soprattutto, secondo me, è molto moderno, valorizza pieno l'abito, che finalmente si vedrà bene o non verrà nascosto da cappotti o da mezze misure, comunque la sua gonna sarà piena, sarà bella e appunto il fatto che il giubbotto o cappottino cada all'altezza della vita farà sì che le tue gambe sembreranno molto più lunghe e il tuo busto un po' più corto, quindi perfetto se hai il busto lungo e gambe corte. Un altro abbinamento che mi piace sempre molto è il blazer, anche questo è indicato per le mezze stagioni, bellissimo, aggiunge quella struttura all'abito, aggiunge quell'importanza, quella formalità, quindi molto indicato se per esempio hai un abito basic, un abito che magari hai paura che abbia qualcun altro, un abito un po' anonimo, lo vai a rendere più particolare, più personale, più, diciamo, gli vai a dare quella nota, quel twist che ci vuole sempre con un bel blazer. Puoi scegliere tu il modello, un modello oversize, un modello più in figura, indossarlo con la cintura, senza cintura, lasciato aperto, chiuso, insomma sono tanti i modi in cui si può portare un blazer e secondo me appunto è un capo che per le mezze stagioni è super valido. Se hai un blazer in figura, quindi non oversize o comunque un blazer abbastanza aderente, lo puoi portare anche sotto un cappotto, quindi indossarlo anche sopra l'abito al posto di un cardigan o di un maione. Come ti dicevo prima, per la stagione invernale sono assolutamente molto belli indicati i piumini, sia lunghi che corti. Come vedi qua, possono funzionare, magari non lo diresti mai, ma poi alla fine provando, sperimentando, si possono creare degli accostamenti davvero molto intriganti. Ad oggi poi abbiamo talmente tanti modelli di piumini e non solo i classici piumini da montagna o comunque quei piumini che riempono, quei piumini molto sportivi, ma abbiamo anche dei piumini che possono essere più femminili, che possono avere quella nota in più di eleganza, un po' chic, sia per i loro colori, le loro finiture, ma anche proprio il loro modello. E ultimo, ma non per importanza, abbinamento è quello con la pelliccia sintetica o comunque la pelliccia che hai a casa. È un abbinamento che rende subito tutto molto più regale, più importante, proprio secondo me ti senti importante, perché hai già l'abito che di per sé riempie, più una pelliccia del genere che comunque ti va... cioè, sei protagonista della strada in pratica. L'unica raccomandazione che ti faccio è quella di scegliere una bella pelliccia sintetica. Quindi, nel caso tu stia pensando di comprare un pellicciotto, toccalo bene, valuta se esteticamente è bello, se al tatto è bello, perché non c'è niente di più brutto di quelle pellicce sintetiche che al tatto e alla vista sono molto brutte. Vanno davvero a rovinare, a rendere scadente anche il più bello dei look. Quindi mi raccomando, una bella pelliccia sintetica e anche qua divertiti con gli abbinamenti, osa, sperimenta. Se sei una persona a cui piace questo genere, questo stile, la pelliccia è bellissima. Io sono una grande amante delle pellicce sintetiche, ne ho due, tre, che d'inverno devo dire indosso molto molto spesso. Con maxi abito non le ho mai provate, perché le mie pellicce sono della lunghezza media. Quindi mi frega una volta perché io non sono altissima e ovviamente preferisco avere una lunghezza, come dicevo prima, crop, oppure l'indosso con i cappotti solitamente lunghi, i miei abiti lunghi. Quindi con la pelliccia non l'ho mai provato. Lo proverò anch'io, però secondo me, a me, non sta tanto bene. Comunque, detto questo, io ti ringrazio tantissimo per aver seguito questo video. Fammi sapere tu come indossi i tuoi maxi dress, se ti piacciono, se li porti più nelle stagioni calde rispetto a quelle fredde. Ti ringrazio ancora una volta e ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo video.